Bisogna in futuro, nei prossimi anni, cercare di fare il possibile e l'impossibile per creare prima una città metropolitana dove c'è un'unica amministrazione che gestisce la provincia di Trieste, seconda cosa auspicare che con accordi internazionali, ma in particolare all'interno dell'Unione Europea, si addivenga a un particolare status per Trieste. Lo spazio fisico fra il ciclista che transita e il pedone sul marciapiede deve essere rigidamente separato da una fioriera o da palletti, deve essere una separazione fisica, poi il codice della strada considera la bicicletta un veicolo, non è motoveicolo, è un veicolo a trazione umano, per cui è come un normale metodo di trasporto, deve circolare non sul marciapiede. poi